Il Daytime di Amici 18 di martedì 4 dicembre 2018 in tempo reale.Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciottesima edizione.Surrealtime. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 1350, va in onda la fase preliminare di Amici 18 dedicata agli aspiranti allievi di questa nuova edizione del talent show di Canale 5.La striscia pomeridiana è condotta da Lorella Boccia, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.Amici 18 Le anticipazioni del 4 dicembre 2018 La striscia quotidiana di Amici 18 segue il percorso degli allievi che, come ad ogni edizione, hanno l'obiettivo di raggiungere la fase serale del programma.Gli allievi della classe di questa edizione, al momento, sono i seguenti Giordana Angi, Mameli, Tish, Daniel Piccirillo, Alessandro Casillo, Giacomo Eva, Gefeo e Alberto Urso sono i cantanti Miguel Chavez, Arianna Forte, Marco Alimenti, Morli, Giusy Romaldi e Anna Maria Ciccarelli sono i ballerini.I professori di questa edizione sono i seguenti Rudy Zerbi, Stash e Alex Britti sono gli insegnanti di canto, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Stefans sono gli insegnanti di danza.Amici 18 Dove vederlo la striscia quotidiana di Amici 18 va in onda su Real Time, a partire dalle ore 1350, dal lunedì al venerdì.La puntata andrà in onda anche in streaming su The Play.La puntata e i video riguardanti la vita nella scuola Dei nuovi allievi sono disponibili anche sul sito Witty TV e su The Play.Amici 18 Second Screen Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata al talent show Amici.Amici ha una sezione dedicata anche nel sito ufficiale di The Play.Su Facebook La pagina ufficiale è amici di Maria De Filippi.Su Twitter L'account ufficiale del programma è chiocciola amici ufficiale La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag cancelletto amici 18.Per chi vuole seguire il programma in live blogging Infine, la puntata di oggi sarà disponibile in tempo reale su Sunsblog, magazine di blocco, a partire dalle ore 1350